Dopo l'amichevole a Trestina finita 0-0, l'Aquila Montevarchi è ripartita con gli allenamenti dopo il lunedì di riposo. Buona la condizione fisica della squadra. Il primo infortunio della stagione però è per Ruffini che durante un allenamento ha girato il ginocchio e nelle prossime ore sarà effettuata la risonanza magnetica che dovrebbe dare la diagnosi ma si dovrebbe trattare di uno stiramento a uno dei legamenti. Per il resto il preparatore atletico è soddisfatto di quanto visto in questa prima parte di stagione. Bene dai, molto bene, molto bene. Come spesso capita ho trovato un gruppo molto disponibile, disponibile a lottare, a faticare, quindi non ho niente da aggiungere perché abbiamo fatto tutta la settimana doppi, eravamo partiti dalla settimana precedente dove abbiamo fatto i test e le varie valutazioni sui ragazzi, quindi bene dai. Ovviamente la condizione è in crescendo, arriveremo piano piano, però già oggi ho visto sinceramente un buon ritmo e tanta voglia di lottare, è quella che secondo me fa la differenza, se abbiamo spirito di sacrificio e siamo disposti a faticare poi la condizione viene e verrà. Nel fine settimana doppio appuntamento al Brilliperi con la prima e la seconda uscita in casa della stagione, nell'amichevoli con tutto cuoio e cuoio pelli.